con mister bonura nel dopogara di questa partita per alcuni un derby per altri no comunque un match sentito diciamo così tra Grosseto e Follonica Cavorano 1 0 a 0 a noi è sembrato sostanzialmente giusto le squadre si sono abbastanza annullate anche se poi devo dire la mia impressione è che tu e ragazzi abbiano preso le misure ai bianco rossi e magari ecco tu che già dalla testa che scuoti nell'occasione penso che ce l'abbiamo avuto noi loro 0 l'occasione abbiamo avuto occasioni importanti quindi poi deve stare a vedere nel suo tempo c'è stato poco e nulla davvero grosso predominio territoriale però abbiamo creato poco a parte la piazzata di Idrorusso nel primo tempo 2-3 palle gol veramente clamorose quindi senza nulla torri a Grosseto ma se c'è una squadra da vincere la mia nel compito delle occasioni perlomeno perché la partita penso l'abbiamo fatta più noi che loro loro abbiamo avuto più a difendersi chiaro dopo noi per nessuno tempo abbiamo avuto poca velocità nella palla insomma poco loro facevano parecchia densità e abbiamo anche dato poco nel compito delle occasioni ce l'abbiamo avuto più noi che loro senti Grosseto che comunque è stato ricostruito dal mister Liguori quarta partita senza subire redi come hai detto tu una squadra che fa molta densità non è facile da essere affrontata sapevamo che era una squadra che si difendeva dentro la prima metà campo e cercava di ripartirti quello che ha fatto però è anche ripartito poco penso nel senso noi ti ripeto è stato difficile trovare il barco giusto e loro si hanno difesi bene hanno perduto anche tempo soprattutto nel secondo tempo e dopo non è venuta una partita nessuno tempo magari appunto l'occasione bella da un punto di vista perché ha mancato poco effettivamente però ripeto in un'occasione noi meritavamo hai anche tu hai ricostruito hai rivoluzionato la squadra fortemente abbassato nella media età hai comunque elementi importanti soprattutto negli obiettivi stagionali quali sono gli obiettivi di fa un campionato importante come lo fa sempre il fallone lavorano quindi gli obiettivi sempre quelli quindi chiaro che il fatto di giovanire è stata la scelta della società condivisa con me quindi senza nessun problema quello ne che il fatto di essere più giovani più giovani senso una squadra un po più giovane spetta da altri ci comporti che in campo dopo ripeto sempre da giocare quindi non è una questione d'età io se posso mister ti chiederei se è uscita fuori la partita che ti aspettavo se ci aspettavo un po più di vivacità generale e poi una battuta sulla prossima partita con il franello mi aspettavo sta partita perché mi aspettavo loro stavano lì ad aspettare di partire infatti è stata quella infatti la mia preoccupazione era di sbloccarla troppo chiaro che più un passo il tempo più magari ti fai prendere dalla frenesia e senza riuscivano a trovare il barco e quindi chiaro che dopo mi lasci un po più luce in qualche situazione però ripeto mister buonasera complimenti per la partita se potremmo rispondere anche la partita prossima possiamo dire siamo alla famiglia si prepara da martedì si pensa a famiglia certo buonasera mister abbiamo visto o meglio la mia impressione è stata che nei primi venticinque più o meno minuti il grosseto provasse o meglio cercasse di portarvi fuori dalla vostra metà campo per prendervi di infilata che era un po' un ganovaggio che non mi sarei aspettato all'inizio perché mi aspettavo più un grosseto che ripartiva in contropiede voi siete stati accorti siete ripartiti in un paio di occasioni il lancio lungo per marcheggiani forse quella più clamorosa è quella di Lorus è quella di Lorus altre situazioni dove abbiamo mancato l'ultimo passaggio c'è stato qualche anche dei presupposti ci sono stati anche per lo tempo è vero che poi non abbiamo però dei presupposti c'erano dopo qualche scelta l'abbiamo sbagliato però no però rispetto al primo tempo cos'è cambiato perché la ripresa siete partiti subito lei diceva forse siamo un po' calati di intensità l'impressione è che quando torna la squadra chiusa l'intensità deve essere veloce giro la palla l'intensità nel giro la palla perché quando torna la squadra chiusa devi cercare di girare la palla veloce in un barco magari in un imbucato oppure per passare per via esterno magari riempilare e crussare è chiaro che se muovi la palla in maniera renta con la squadra chiusa hai più difficoltà perché non li muovi mai e quindi bisogna essere l'intensità nel giro la palla però ripeto sapevamo che la partita potrebbe essere quella e quella è stata quindi probabilmente c'è mancato un po di non di cattiveria però nelle crediti fino alla fine ci abbiamo avuto poco probabilmente però ripeto il forno 0-0 che chiaramente non ci soddisfa perché ripeto per le occasioni soprattutto nel primo tempo avessimo fatto come la partita si sarebbe aperta loro magari avrebbero usato un atteggiamento diverso invece così è nato una domanda mister come mai ha sostituito crimen che un problema finito perché no 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 perché non lo mette mugeli perché uno mette un po un giocatore con caratteristiche diverse con gamba diversa sperando che magari da quella parte riuscisse un po ad attacca con la zona lì perché il mugeli è un giocatore che anche in qualche spazio c'ha lo strappo importante e l'ho cambiato per quello poi anche ammunita ammunita anche lei per mezzo al campo quindi dopo perché si sembrava vero che invece più in noia però c'è anche altri giocatori quindi per cambiare se no bisogna anche qualche forza fresca ma chi ha avuto un risentimento traduttore retto non so cos'è di un po tirare era il meglio è stato bravo sono bravo con tutti gli altri quindi è stato bravo a qualche parte di partenza ce la fa da lui se nel primo tempo non fa una partita a specchio due moduli simili 423 mancato forse qualcosa c'entra campo e salta l'uomo in continuità no ma sai che quando la superiorità molte volte quando si trovi squadre chiuse anche dovuta anche la superiore della ricerca cercare salta l'uomo ripeto cercando rimuovere la veloce da una parte all'altra però lo stesso è difeso bene è stato l'arte c'è mancato ripeto il primo tempo il fatto non ha fatto gol perché ripeto avessimo fatto l'opera col potuto quasi ma non c'è nessuna parte quindi nel secondo me va ben creato un meno quindi ne è venuto fino a 0 grazie mister a voi grazie mille non è venuto fino a 0 grazie mille